la mia famiglia pedaglia non è un spazio in mezzo che non mi ricapito più ragazzi sono io sono io sono io ragazzo di nuova ragazzo che mi ha detto che insieme alla mia ragazza non sapete due adesso salutiamo la ragazza ciao ragazza ciao ho saputo adesso che si chiama non lo sappiamo anche lui però lui e laura li conoscono un po allora la mia è qui ma come laura non c'è in questo momento laura non c'è sono caduti anche gli occhiali che tristezza di si pariette ragazzi e loro come sta andando sto 5 mila che hanno tutti ma un po' anonimo per il momento bello bello tranquillo come stai messo 50 60 mila lo sai che c'è c'è un chip leader che ha guerritissimo che c'è 450 mila che è uscito da un dettaglio come ha fatto è che vuole ammazzare tutti mi ha toccato ci infatti si è seduto da solo non so 50 e 40 vuol dire gustane 10 e 12 quanto ci metta lanciate una sfida lancia una sfida eh domani ti becchiamo se ci arriviamo a domani lui è sempre più attivista finna ci arriva io c'è vivo stavo mangiando i peggio lascio 10 mila per vantaggio mentre più corto ne ha 5 mila cento però non si sa mai avanti è buono vedete 5 mila cento vabbè siamo avanti al momento io mi coprerò una quota è il primo che vince la scelta esatto esatto anche poi si riprende domani che poi si riprende chiediamo a lui chiediamo alla cosa vabbè 5 mila cento sono poche ce lo diranno cosa vi sentite di dire gli amici del palapoker mi piace questo posto bel posto venite a giocare anche la sera è la prima volta per te no no io spesso ne ho capito qua vicino ah vieni qui e ovviamente lasci le lasci perché guarda lascio il gran soldi tu è la prima volta dai affortunatamente è la prima volta ho mai lasciato gran soldi perché hanno un abito così vicino però no 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 il posto è molto bello bel posto parliamo bene della dirigenza che poi mi danno l'aumento è molto bello di più di più bellissimo meraviglioso incantevole sto mangiando i capelli stasera ragazzi per il mio bravissimo al minimo 3 mila servizi 4 mila 4 mila 4 mila 4 mila che poi non posso convertirla da nessuna parte mi pagano i fishe è dura la vita ragazzi allora ogni boccalupo non so cosa si dice si boccalupo va bene va bene approvato diciamo alla fine chi siete lo dico io lo dite voi di chi sei io sono giuseppe davvero se tu non lo so c'è un po di confusione io sono ragazzi sono molto confuso di ringrazio ragazzi tornate al tavolo anzi finite la pausa io invece torno al torneo che stavo anche messo bene vandaggia muovi sì io sono contribuente ma contribuente sono contento alla sala piace grazie ragazzi grazie grazie ciao 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 buon torneo dopo due maschietti buona sera miscia garantito 5 mila come sta andando bene vabbè certo non faccio auguri da perché non si sa mai nel posto bocca al lupo diciamo così la struttura ti piace giocabile giocabile un sacco di fish hai avuto modo di incontrare i colleghi al tavolo però niente vi tengono divisi per paura di collusio sicuramente quello il motivo ti piace quindi la struttura se ricordiamo che siamo al 21 di oggi venerdì 4 poi ci sarà speriamo di uno dei due e sarà sabato domani e poi fatti i compiti sono anche tutti gli occhiali e il final table la domenica che fate l'apertura dunque adesso ci stanno quasi chiamando ci fai un salutino al sito del palafogra ciao a tutti gli amici di palafogra e venite palafogra perché potete trovare anche lei chissà a volte ci sono a volte dovete venire voi a controllare quando c'è cominciate a venire ti aspetto ciao ecco ma buonasera noi non ci siamo ancora conosciuti Roberto che c'era? dai io ti conoscevo di fame poi abbiamo sentito prima un pro che non ce l'ha raccontata giusto uno dei maschietti che aveva detto? hai detto delle cose sapessi? ma scusi devi guardare l'intervista per sapere lo guarderai promesso? certo allora come stiamo andando questo dei 1D ora non ci fai venire da fare questo 100 bui no 100 bui la struttura ti piace? la struttura ti piace il posto? la sala, le belle si fa 5 ore perfetto tutto perfetto tutto è una sfiorinata dagli organizzatori che sempre mi danno le organizzazioni il rumore che sentiamo è che sta dentro il suo torneo il vino sta già andando e poi non voglio che poi magari non so se di grande buio non lo sai non mi prendo questa responsabilità ci fai un salutino agli amici del palapoker ciao palapoker e se venite qui i amici magari la potete provare certo vi aspetto fin domani spero bocca al lupo grazie buon proseguimento ciao 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 servirà un angioletto io questa luce ahahah questi capelli serve quasi un angelo un angelo biondo ma non ti puoi abbassare che mi fai sentire il tappello siamo dentro l'inquadratura Filippo siamo dentro l'inquadratura non molto io non vedo troppo alto sei troppo alto spero gli altri che lui c'è il capello che sfugge spero gli altri spero adesso dovremmo esserci passaci un po' si io abbasserei un pochino a posto così guarda si abbassa lui adesso siamo a posto? si siamo quasi alti uguali si si giusto hai niente da dichiarare? che sono malato la febbre sulla tua carta di dita quanto c'è scritto? 38 di altezza no no di febbre come sta andando il terreno? sta andando siamo partiti con 40 mila o 13 mila voi siete arrivati in quanti? voi proprio da in macchina con te in macchina con amici? in quattro in quattro in quattro non è collusion vero? no perchè non è neanche uno al tavolo ahiaiaiai la sfortuna vuole poi le collusion al tavolo è come fare una maratona senza scarpe difficilmente si arriva in fondo giustamente non fate collusion ragazzi quindi quindi dove sta andando? sta andando penso subito all'inizio 20 mila full contro full Allora succede anche a te ogni tanto, si perchè il river è sempre il river, il river è maletico, a bagnomaria, adesso quindi quanti bui abbiamo? Eh non lo so bisogna mettere spazi pronti, adesso non li ho fatti, ah un pro come te che non lo sai, ma non lo so, adesso che li vediamo siamo al quinto, quanto saranno i bui non lo so, comunque è una bella struttura Ti piaciuta? Devo dire si, 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 ti sto appizzicando, io lo sto appizzicando, è valida come struttura, però sono conto, eh vabbè, speriamo, sto sempre sperando, acip acer, qual dici? Nafisci, acip acer, nafisci e nasedi, glielo dico i barezi, va bene, ok un saluto al palapoker, un saluto al palapoker, ciao palapoker, gg al, gg, cosa sta per gg, perchè qualcuno si chiama gg? Gg, io dico sempre gg perchè gioco online, gg vuol dire gg, ah gg, gg è brutto da dire, sembra che sto imparando a parlare adesso, a gg, go al tavolo, go go, ah si è iniziato, e poi mi dai una colpa, poi mi fa pagare, ciao, ciao, ciao Grazie a tutti